questo rumore fa davvero paura d'accordo, mettiamoci al lavoro è ora di fare sul serio che te ne pare? perfetto è decisamente buio qui non per molto, farò di ricerca così va molto meglio ecco di nuovo quel rumore non si riesce a capire da dove proviene già, perché riecheggia sui muri vuol dire che dovrà usare la mia ecolocalizzazione cercatore sonico da questa parte secondo il mio cercatore sonico il rumore arriva da laggiù al di là di quella grande voragine grande voragine un bel salto nel vuoto potrei attraversarla in volo non è sicuro le rocce potrebbero farmi precipitare guardiamoci in due forse c'è qualcosa che possiamo usare come una corda o un ponte un ponte di corda un ponte di corda molto vecchio e tra ballate lo attraverseremo facendo molta attenzione seguimi avanziamo con calma e tranquillità vai 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 dobbiamo saltare sonni e salvi siamo qui che cos'è stato? magari è l'anatra malvagia arriva proprio da laggiù c'è qualcuno? ci avete trovati siamo talpe trivella io sono trilberto e lei è mia sorella gemella trivetta per fortuna ci avete trovati ci serve il vostro aiuto le nostre ponte sono rimaste bloccate quindi è questo il rumore che ha tenuto sveglia Motorvania lo provocano le trivelle già e adesso non riusciamo a tirarle fuori è ora di attivare braccia scale per oggi basta piccare il naso dopo Oh! 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 Oh!